Salve a tutti cari amici e bentornati sui se i calcoli sono giusti, ci metto sempre un segre rosso come un treno. Call of Duty World War 2, il nostro ottavo episodio dovrebbe essere quello, Calle 493, questa è la nostra missione, diventa sempre il 14 novembre che è lo stesso giorno di fabbrica di morte, infernale missione. Vediamo quante volte moriremo qui, quante volte dovrà tagliarvi il video, quante volte dovrà impazzirci. Comunque detto questo andiamo avanti ragazzi perché siamo vicini spero, al finale mancheranno ancora due missioni, tre, non lo so, ci proviamo. Andiamo. Stiamo aspettando, Pearson. Chissà che cosa frulla nella testa di quel maledetto pazzo. Se tu fossi qui, Paul, lo metteresti in riga. Spero che Ziusman e Aiello resistano fino a quando colpiremo quei cannoni. Ok, inizia missione. Dock 1, driver, parla Dock 1, 6, ricevete, basso. Tutte le unità in ascolto, parla Tagwood White Dock 1, 6, chiedo un controllo radio, mi ricevete, basso. Se posso permettermi signore, forse dovremmo raggiungere il punto d'incontro. Non ancora, Pearson arriverà. Signore, è la verità. Pearson ha lasciato morire degli uomini al passo di Cassari. Un giorno, Daniels, quando avrai il tuo plotone scoprirai di avere due opzioni, una brutta e una orrenda. Tu pensa ai tuoi uomini. Quello ti darà la forza. Deve dirlo a Pearson. Il sergente Pearson. Prego che a te non accada mai. Tenente! Trasmissione da Baker. Assalteranno il colle 493. Pearson è con loro. Cosa? Ha preso i nostri e il secondo plotone. Preparatevi! Ci muoviamo! Ok ragazzi, siamo in gioco. Allora, sostituiamo la pistolina, io direi. Perfetto, un bel mitragliatore. Io vado sempre a nostro mitragliatore. Va quanti gruppi che ci stanno già sparando. Ricordo che non c'è Zuisman, che l'hiamo letto a fucire per questo. Non fatemi fare poco amico. Avanti, un attimo, avanti ci sparano i tedeschi. La nostra squadra è più avanti! Se in questo ci sono i cruchi che ci sparano! Ho capito! E gli sparo solo io! Eh, eh, cioè. E voi andate avanti a farvi trivegliare di colpi, andiamo avanti! Il colpo da maestro, grazie. Siamo presi i garanti. Allora, devo ricordarmi che non c'è Zuisman che ci tira i kit. Quindi, i kit che ho sono quelli... I trucchi, li sto ammazzando tutti io, eh! Come sempre! Lo vedo uno lì, il trucco è collegato anche in appianto. C'è pure i danni ambientali che stiamo facendo, vabbè. Prendi delle munizioni, Daniels! Signore, mi servono munizioni! Grazie! Lui aveva le munizioni di un'arma che ho raccolto lì nel campo, ma lui l'aveva, Turner! C'è il caldo per le armi, però! Crucco a terra, crucco a terra! Proviamo ad avanzare, eh! Sì, lo vedo il trucco, là! Preferirei un fucile da cecchino, ma se non possiamo averlo. Ci facciamo andare bene questo. Ah, quanti trucchi! C'è un trucco, proprio là, sul... Come le tiriamo giù, le mitragliatrici, ore 12? Io provo a buttarmi, ma chi se ne frega! Ragazzi, vi sto già tagliando ripetizione video. Questo sarà il sesto, settimo try che sto facendo. E' assurdo come pezzo, è difficilissimo. Non capisco dove passare per... Ovunque mettiamo la testa veniamo riempiti di piombo in pochissimo tempo. Sai, sgranate! Ci sono! Grazie. Oh, in qualche modo ce l'abbiamo fatta, sembra. Però, ragazzi, è terrificante, veramente! Aiuto! Qualcuno mi aiuti! Sempre avanti! Ti aiuto io! Ce la farai! Più veloce! Portami al riparo! La nostra squadra è più avanti! Ragazzi, è difficile salvare i soldati. Avanti, avanti! Troppo tardi! Come troppo tardi? Ho fatto il meglio che potevo. Ok. Allora, cattura il cove, ragazzi. Daniels, ce l'hai fatta! Che bello vedere! Wilson, che cazzo pensavi di fare! Eseguo gli ordini! Il nostro geniere deve spazzare via quel fortino! Non finisce qui! Daniels, scorta Parker e fagli piazzare una carica su quel bunker! Sì, sergente! Eh, beh, eh, eh, eh... Daniels, avvisati qua! Secondo me si fa ammazzare come un disperato qua. Tieni giù la testa e vai! Avanti! Via, via, via! Fuoco di copertura! Ragazzi, è un pezzo impossibile questo. Marker, per me avanzare! Intragliatrice è bloccata! Non so vantare! Puoi andare! Andiamo, andiamo, andiamo! Fuoco di soffressione! Intragliatrice è andata! Aspetto il tuo segnale! Adesso, Parker! Va bene, copritemi! Fuoco sulla mitragliatrice! Quando arrivate vicino alla mitragliatrice, vecchia rivela di colpi! Mitragliatrice sistemata! Dimmi quanto posso andare! Via! Io vado, capimi! Serve copertura! Mantra la nome! E stagliore utile! No! Ragazzi, guardate i danni! Guardate i danni! Siamo la mitragliatrice! Parker distruggerà il bunker! Mitragliatrice neutralizzata! Dai, vai! Via, via! Il quadri vento! 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 Notate i danni che ci fanno! Lato destro! Arrivano da su! Lato destro! Lato destro! Lato destro! Chi è che ci fa tutti questi danni? Esploda troppo presto! Carica di merda! Non ho più vita, ragazzi! Bunker pulito! Sì, ma non ho più vita! Cioè, è stato angosciante! Un mucchio di trai! Quante sono le perdite? La missione è riuscita! Quanti! Avevamo l'ordine di prendere il colle! Dovevate aspettarci! Non c'era tempo! I nostri uomini? Gli ordini erano! Fancula quei cazzo di ordini! Secondo te volevo questo? Eh? Siamo macchine da guerra, Joseph! Siamo fatti per prendere ordini e basta! L'hai dimenticato? Sono uomini! I nostri uomini! Te lo sei scordato? I 150 continuano a spararci! Muoviamoci! Distruggiamoli! Daniels! L'artiglieria è più avanti! Apri la porta! Sì, ho capito, ma cure per me non ce ne sono? C'è veramente allucinante, signori! E siamo in difficoltà recluta! E' veramente difficilissimo, solo in queste difficoltà! Vabbè, non avevo capito che erano tedeschi, ragazzi! Ah, mi avevano dato un kit nebo! Scusate se mi son buttato, ma non capivo che c'era un tedeschi! Munizioni da darti, soldato! Rischio nuovamente di fare dei fuoco amico! Sono messo malissimo! Signore, mi servono altri colpi! Mi servono kit più che... Cos'è quella fiammata? Quale fiammate che facevano malissimo! Lo vedo, lo vedo, lo vedo! Non ti mettere a farmi fare fuoco amico! Che ci manda in game over! Ecco qua! Vedo un kit andando avanti! Sì, avanti a colpi di kit medici, eh! Nemici a terra! Denias, metti una termite su quel cannone! Fuoco alle polveri! Lo so, non mi lasciava spostare, avevo paura! E adesso ti prendo una granata esplosiva! È andato, eh! Allora... Munizioni incendiate! Prima di domani, magari, la ricarica! Ok! Sono qua le munizioni incendiate! Ma perché non muoiono? Usiamo l'ultimo medikit, ragazzi! Forse è un po' troppo presto, ma... Allora, siamo senza munizioni... Quindi prendiamo questo... Apriamo questa porta! Ma ci proviamo, dai! Ci siamo! I ultimi 150! I crocchi sono dappertutto! Veramente i crocchi non finiscono mai! Uh, grazie, Zuisman! Oh, grande! È tornato Zuisman! Ragazzi, mi sento meglio adesso che c'è Zuisman! Dobbiamo controllare l'area prima di colpire i 150! Ho munizioni da darti, soldato! Signore, mi servono altri colpi! Ho qualcosa per te, soldato! Chi ci spara così violentemente per ucciderci? Ma siamo fuori! Siamo in guerra, dopo tutto, cioè... Ci sta che ci vogliono far fuori! Piove e fiumbo ovunque, comunque! Grazie, Zuis! Via, 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 via! Occupiamo l'area! Sono degli infami che... Quando un caricatore non basta, come si dice... Stiamo... Ok... Non possiamo ancora interagire con il cannone, c'è ancora qualche trucco da ammazzare... Per questo lo dobbiamo far saltare... Lo vedo! Crocco a terra! Eh? C'è ancora qualcuno? Nemici di guardia al 150! E' beati voi che li vedete, cioè... Eccola! Ecco... Guarda che è da brutto trucco! devo sparare io panzer No taglia non capite dovevamo rispiegare Grazie Guzman che mi tirerai un kit Bene Oh mannaggia Non devo fare quella cosa lì vero Ti ho voluto bene ragazzi Sì, un attimo Mi avevano tirato una granata giusto per gradire Vai dietro Allora cosa dobbiamo fare ragazzi Seguiamo gli altri Ancora vivo il carro, sì ho capito C'è vivo ancora, funziona ancora, gira ancora Sono sempre in ricarico queste armi Ragazzi è tutto così Tremendamente difficile Sarò sempre a decimo, undicesimo Le armi sono sempre scariche Sempre scariche le armi Per ogni nemico serve un caricatore intero Sì, un attimo Un attimo Un attimo Rivedo, rivedo. Queste ondate sono terrificanti. Rivedetevi conto che mi servono... Org! Mi servono tutti i colpi di un caricatore per un singolo nemico. Ragazzi, io sto facendo veramente il massimo, ma è tutto sulle mie spalle. No! No! Verfluchten, schweine, verfluchten amerikanische Arschlöcher. Sie nötze, die schlagen. Was machen Sie hier auf unserem Kontinent? Dich alle am Arsch lecken, verfluchten amerikanische Schlau. Scheiße! Turner! Riturzinevici, ritirata! Non ce la faccio, per me è finita. Lasciami qui! Sono qua! Via! Non ce la faremo mai! Chi! Vai! Entendere! E' stato un onore. Questo sacrificio è un onore. Andate! Ritirato! Sergente, muoverci! 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 E' un massimo attacco! Ritirato! Signore, ho pensato di darle questa. Hai pensato male? Vedi, questo è un nuovo mondo, Daniels. Il mio. Devi metterti in testa, che mai e poi mai mi tirerò indietro dalle mie responsabilità. Sarai il mio secondo. Ti voglio dalla mia parte al mille per cento. E farai in modo che valga anche per tutti quegli uomini. Prova a deludermi e nulla passerà in liscia. Ora vedi di sparire. Ok ragazzi, facciamo il trofeo. I nostri uomini. Turner ha coperto la nostra ritirata ed è morto. Non è facile da scrivere, né da accettare. Comunque non è morto in vano, visto che siamo ancora vivi e il convoglio è al sicuro. O almeno è quello che mi ripeto. E noi andiamo avanti. Quindi ragazzi, è morto il comandante Turner, addirittura. Siamo all'offensiva delle Ardenne. Un'altra missione che sarà la nona, ragazzi. Il 25 dicembre del 44. A Natale, attenzione. Ma noi ci fermiamo qui, oggi. Quindi, come già detto in precedenza, se vi è piaciuto questo video, ragazzi, mi raccomando. Mi raccomando, ripeto, scusate. Lasciate like per supportare una cifra al canale. Soprattutto per una cosa che vi chiedo. Iscrivetevi. In questo modo saprete attivando la campanella con la notifica. Quando vi metto online, appunto, offensiva delle Ardenne. Il prossimo episodio di Call of Duty. Che oramai vi sto apportando solamente Call of Duty World War 2. Detto questo, ragazzi. Io vi ringrazio di aver visto questo video. Noi ci vediamo alla prossima. E ciao ciao a tutti dal vostro Siro.